Una conferenza stampa voluta e convocata dal Presidente del Cogamo, Dottor Mimmo Tortola, per confermare la disponibilità degli operatori del mercato per il rilancio della struttura e nei confronti del Commissario liquidatore Dottore Mirko Apa e del suo impegno per dare alla struttura mercatale, sicurezza e spazi per quanti accedono all'area per commerciare o anche per visitare. Soddisfazione per il Commissario liquidatore per la disponibilità data dagli operatori e dalle cooperative che nel contempo pensa non solo alla gestione quotidiana ma anche e soprattutto all'attività liquidatoria dell'Ente. Il Cogamo mi ha fatto un invito ufficiale per tramite il suo Presidente, il Dottore Tortola Mimmo, in quanto fondamentalmente mi è stato espressamente chiesto di relazionare rispetto a questi sei mesi di gestione liquidatoria della struttura. Si parlerà, parlerò fondamentalmente di quella che era la situazione anti liquidazione, per cui quindi febbraio 2017 e fino ad oggi. Si parleranno appunto di quelle che sono le situazioni contabili, di quelle che sono le situazioni in corso relative a delle cause che abbiamo in tribunale. Erano delle situazioni un poco incancrinite rispetto a dei recuperi di crediti del Consorzio. Sono stati ridotti di circa il 70%, in più le posizioni debitorie sono state quasi in maggioranza concordate e quindi c'è stato un assessamento per cui ho convocato io personalmente i creditori del Consorzio, tutti fino ad oggi e con il 60% di loro abbiamo già trovato un accordo transattivo a saldo e stralcio della posizione loro personale. Il bilancio 2017 di liquidazione è un bilancio che prevede lo stralcio di molti debiti che poi sono stati sanati. Comunicherò i dati economici, finanziari, di quelle che sono gli ingressi, gli aumenti anche rispetto a quelli che è il conto corrente, tutti gli incassi che sono stati recuperati fino ad oggi con snocciolando i diversi numeri e le diverse poste di bilancio che da negative sono andate a positive. Finalmente riusciremo e siamo riusciti già a dare delle risposte, delle risposte in tema di sicurezza ma non solo. Oggi con il cambio di guardia che è avvenuto quattro mesi fa con l'insediamento del liquidatore le cose si stanno mettendo al proprio posto, ogni tastello sta andando al proprio posto, non solo dal punto di vista strutturale, dal punto di vista della sicurezza, ma anche e soprattutto dal punto di vista contabile. E' veramente riuscita di inquadrare bene la situazione anche dal punto di vista contabile. Pensi che fino a qualche mese fa su uno dei conti correnti c'erano 60.000 euro dell'ente gestore, uno dei tre conti che ha l'ente gestore, adesso su quel conto ci sono 220.000 euro. Questa è la testimonianza del fatto che le cose quando si fanno per bene poi ci sono anche i risultati e i riscontri. Grazie. 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 Grazie.